Dai muoviti, muoviti! Voglio andare un pochino io sull'antanella! Oh! E' un pochino, che mi chiamo? Mamma Romina, che è successo? Pronto mamma Romina? Ah! Sì, certo! Assolutamente! Io essere molto felice di venire dalle bambine! Devi dare solo a me qualche minutino per il primo volo per l'Italia! Ma che bella principessa! Ciao Vane! Ciao Ani! Ascoltatemi, guardate che oggi è il giorno in cui io devo andare a fare quella visita molto importante e quindi ho bisogno che qualcuno venga a sostituirmi per qualche oretta, ok? Allora, ho provato a chiamare un paio di mie amiche ma purtroppo sono tutte impegnate quindi ho trovato il numero di Violetta. Te la ricordi Violetta, l'estetista perfetta? Violetta? Oh no! E' già Vanessa, proprio lei, te la ricordi vero? Ma chi è? Tu non l'avevi conosciuto Violetta. Violetta è l'estetista perfetta, è una signora russa, simpatica mamma mia, ma guarda, simpaticissima, è più del mio pagnolino anche se non parla. Ma che ci tiene molto all'igiene personale, quindi lei sicuramente è la prima cosa che farà quando entrerà in casa... che ci dobbiamo nascondere! Oh, vieni qua, furbetta! Forza, adesso me la ricordo, che forse la stavatta era venuta da noi. Sì, era venuta, ma tu non c'eri e Vanessa te ne aveva parlato. E quindi lei sicuramente, Anastasia, appena entrerà in casa, ti controllerà le unghie delle mani. Sì, ok, senza parlare molto riflette, allora me ne vado a casa della zia. Ecco, non si sfugge ai problemi, non si sfugge, bisogna affrontarli, quindi vi conviene, bimbe, tagliarvi le unghie delle mani, perché sta per arrivare Violetta! Ma l'hai già chiamata? Sì, sì. Mi va a raccontare! Mi va a raccontare la staglia, dovrà mettere la bocchetta? Allora, bimbe, io vado, mi raccomando, comportatevi bene con Violetta e tu soprattutto fai i compiti, eh? Ok? Io nella staglia vado a... Vado a... Vado a... Ciao! Vado a tua sorella! Ciao, a dopo! Ciao! Ciao! Bye bye! Anastasia, devi farmi vedere subito le tue mani! Vediamo... Perché ragazzi, non mi dico quanto è... pesante! Se non l'avete visto ancora il video, andatelo a vedere, eh! Il link descrizione... Tupa 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 Tica! Però ragazzi, vediamo un pochino... Vediamo un pochino... He he he... Puuttosto... Puzzavoli! Allora ragazzi, ho una forbice per tagliare le unghie, quindi vado a prenderla! Ciao! Ecco la forbice, vieni a darmi la tua manona! Per... Va bene Tu va, tu va, tu va Tu va, tu va, tu va Ok Mi sento che tu è il campanello? È arrivata Oddio, mi sono tagliata le mie prime per fortuna E adesso andiamo ad aperli Piano piano Ciao bambine Ciao Sono arrivata Io avrei fatto un lungo viaggio per venire da voi Perché vostra mamma mi aveva chiamato Tu chi sei? Non c'eravamo conosciute l'altra volta da stanza Io sono Violetta E se ti sto per fiesta E tutta l'allegra oggi? Oggi sono Violetta Dovete fare tutto quello che vi dico Non dovete fare niente di quello che non vi dico Cosa hai detto? Il tuo nome E il tuo nome è pensare ad essere bello Anastasia Bellissima Anastasia è essere il nome russo Ma come mai avere il tuo nome russo? È bellissimo Tu sembrare principessa russa Anastasia È bellissimo il tuo nome Anche il tuo nome è essere bellissimo Somigliare tanto al nome di mia famiglia Perché io essere Violetta E se ti sto perfetta russa Adesso però io voglio ritogliere questa sciarpa A bere tanto caldo Fa niente anche se avrei visto sotto i capelli Nessun problema Io avere due tipi di capelli Capelli per quando volo in aereo Perché fare molto caldo con questi capelli E allora io togno i capelli miei e prendo i capelli Dove stai andando tu con questa mamma? Ti piacciono i capelli viola Anastasia? Mi piace i capelli viola Vuoi fare i capelli viola? No Bene Anche perché tua mamma picchiare Ma se io farei i tuoi capelli viola Anessa Tua mamma avrei detto che tu devi fare tanti compiti Tanti compiti E io avrei portato merenda per voi da fare dopo compiti Dopo compiti Adesso farei vedere quale merenda avrei portato E questo è il caffè Caffè per me perché viaggio molto lungo Io avrei tanta voglia di bere caffè durante il viaggio Perché? Perché viaggio no Ma io avrei viaggiato da Russia per venire in Italia Dove vedi? Russia Mosca Dove è Russia? Russia è un paese molto lontano Molto molto lontano Avrei portato cioccolatino per voi Non essere proprio cioccolatino tipico ai russi Mi avrei trovato questo in aeroporto E avrei comprato per voi bambini Quel cioccolatino è il buono È il kinder buono Molto buono L'avrei assaggiato io prima durante il volo Ed essere buono È buono Buono, buono, buono Oh anche questi della kinder Sempre buoni Ma non buono Ma buoni perché sono buoni E poi avere preso altri cioccolatini E poi Allora bambini Guardatemi bene attentamente Non sbriciare dentro A posto di essa pista russa violetta Non puoi sbriciare No, 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 no Non si fa malificazione È brutta malificazione E io direi poi a tua mamma Tutte queste cose Allora bambini Ascoltatemi molto bene Tu stai rubando cioccolati Nella mia borsa? No Sì, sì, sì No Allora Lo vedete questo? Sì Questo non dovete mai bere Ok? Non dovete mai mai bere Questo è essere una cosa russa Che fa male bambini Bisogna bere solo persone adulte Ok? Va bene Se bevono bambini Se bevono bambini Io ho bevuto goccino Prima di venire Ma bambini Non possono Assolutamente Bere Non potere bere Lascia stare Lascia stare Tu non potere capire Allora bambini Adesso basta Con presentazioni di dolcetti Tu essere monella Io avrei capito Adesso io mettere te in castigo E non fare fare nessun gioco divertente Adesso Vanessa Dobbiamo fare due compitini Va bene Vanessa? Due soli compitini E poi Andiamo a giocare Volete giocare? Sì Sì Il gioco molto famoso in Russia Nascondino Nascondino Volete giocare Nascondino? Sì Anche fuori Anche fuori Perché vuole essere caldo E fare molto caldo Molto caldo Andare subito fuori a giocare Che c'è tanto sole Bello Davvero Io in Russia Quasi nevicava Poi volevo andare su altalena Ma c'era questa mia amica Che non scendeva d'altalena Mi è normale Che mi ha chiamato vostra mamma Così ho detto Vai vai via Tu con l'altalena Che io adesso vado Da bambini italiani A giocare Fare un merende Giocare Nascondino Va bene Iniziamo con i compiti Di Vanessa Vanessa Adesso devo farti Una domanda Molto difficile 2 più 2 Quanto fa? 4 Bravo Vanessa Risposta esatta Domanda molto difficile Tu avere risposto esattamente Bambine Possiamo andare A fare gioco Nascondino Andiamo fuori Io non sono sicura Vieni a giocare Certo Ma io volevo giocare Nascondino A me piace tanto Nascondino È vero Io sarei Una bravissima Nasconditrice Allora Vanessa Conti tu Va bene? Va bene Allora ragazzi Conto fino a 20 Anzi no A 17 1 2 3 4 15 16 17 Arrivo Chissà dove si sono Nascoste Qui non c'è niente Trovata Presa Non è giusto Guarda Vanessa Va bene Bambine Cosa facciamo adesso? Oh se ti posso andare A bere un attimo Va bene Vai a bere Dopo Facciamo altro gioco Ok Arrivo Intanto ho pensato Un gioco che possiamo fare Va bene Arrivo Allora la bella secca Aspettate Non posso bere Quella pozione azzura Che ha portato Violetta Che strana Mi sento strana Forse è giobattolo Forse è troppo caldo Mi sento strana Mi sento strana Che bello questo scivolo Che bello Sto divertendo un sacco con voi Altro che la mia amica sull'altanerma Vai diretti sullo scivolo A questo cosa non la sapevo Adesso provo pure io Allora salire dal contrario Dall'uscito Così quando torno in Russia Io insegnare alle mie amiche Tutte queste cose strane Al parchetto Però Anastasia È tanto tempo che Vanessa non torna Dove è andata? Dove può essere andata? Andiamo a controllare a casa? Spera che c'è un giro Stavendo sul trampolino Vuoi saltare prima sul trampolino? Sì Va bene È bellissima questa casa Speriamo che vostra mamma Ha bisogno ancora di me Ti sto divertendo tantissimo Però Anastasia Mi ha detto che Vanessa È da tanto tempo Sì Hai proprio ragione Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ma perché c'è giupato di Vanessa per terra? Cos'è successo? No No Non mi dire che Vanessa ha bevuto pozione Anastasia Questo è un bruttissimo presagio che io ho Se Vanessa avrebbe bevuto questa pozione Vanessa Vanessa Non posso dirti cosa è successo Vanessa Andiamo a vedere dove è Vanessa Non ci sono Giuseppe Non arrivare Non Ah È ario